Ricordatevi che voi non siete ciò che oggettivamente e realmente siete nella realtà, ma semplicemente siete l'immagine di voi stesso che avete. Cosa significa? Significa che io realmente non esprimo al massimo quello che sono, ma semplicemente esprimo l'immagine di me stesso che ho. Per tradurlo, pensiamo questa cosa, noi non riusciamo a vedere la realtà, tutte le cose che ci circondano, come realmente è. Noi abbiamo dei filtri, perché noi abbiamo un sacco di informazioni che arrivano al nostro occhio al secondo e quindi cosa facciamo? Filtriamo le informazioni che ci interessano e noi viviamo la nostra realtà, tutti abbiamo la nostra realtà, poi c'è che alcuni vivono un po' nel loro mondo, però fa niente. Comunque, il concetto di base è questo e non è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa scientifica, è studiata, è provata e se non fosse così andremmo fuori di testa perché avremo troppe informazioni che il nostro cervello non riesce ad elaborare. Quindi voi pensate, anche quando andate in giro e quando guidate, voi non vedete tutto, vedete le cose a cui siete attenti. Facciamo un semplice esempio, mettiamo il caso, voi guidate e casualmente dal giorno in cui scoprite che la ragazza o il ragazzo che vi piace guida una punto gialla, da quel momento in poi sembrerà strano, ma voi iniziate a notare tutte le punto gialle che vi circondano mentre guidate, eppure prima non ne vedevate neanche una, ok? Quindi, ma le punto gialle esistevano già prima. Come si traduce questo nella realtà di tutti i giorni e nella vita? Si traduce nel fatto che molte persone quando mi chiamano, quando mi scrivono o quando vengono a fare un colloquio perché vogliono iniziare un programma di allenamento, arrivano con una loro idea di loro stessi, io sono una persona pigra, io sono una persona che molla, io sono una persona che non è portata per fare i pesi, io sono una persona che non riesce a correre, hanno tutti questa loro idea, ma è una loro idea che si sono creati, non rappresenta la realtà oggettiva, ma è la loro percezione di sé, anche perché scopri che poi la persona che odia i pesi, realmente è molto portata per i pesi, o quella che non corre assolutamente ha una frequenza riposo di 48, che è ottima e quella persona magari non si allena da anni, ok? Questo cosa significa? Significa che loro pensano di essere in un modo, ma realmente potrebbero essere molto di più. La cosa avviene anche al contrario, quindi ci sono persone che realmente si sovrastivano, hanno un'immagine di loro sé molto più grande di quello che effettivamente possono produrre, ma questo rappresenta solo forse un 5% dei casi. Nel 95% noi tendenzialmente ci sottostimiamo e pensiamo di essere, tra virgolette, più scarsi di quello che potremmo realmente esprimere. Perché? Perché è una questione di pigrizia, è più comodo fare meno fatica e quindi in automatico troviamo la scusa che pensiamo di essere in un determinato modo. Ecco, quello che vi voglio lasciare è solo questo. Realmente cerchiamo di fare un esame di coscienza e cerchiamo di capire se stiamo effettivamente dando il 100% in quello che facciamo e se le nostre convinzioni sono effettivamente vere o sono semplicemente delle scuse per poter poi non mettersi in gioco. Mettetevi in gioco, non preoccupatevi perché fallire fa parte della vita e anzi più la persona riesce a ottenere successo più ha avuto dei grandi fallimenti e più ha avuto tanti fallimenti prima, ok? Quindi il fallimento fa parte del gioco, non preoccupatevi, buttatevi, anzi godete nel fallimento.